La provincia di Ragusa presenterà una proposta complessiva in vista del nuovo piano territoriale regionale. Questo l'obiettivo della commissaria straordinaria Patrizia Valenti in linea con le funzioni dell'ente di aria vasta che sempre di più il libero consorzio comunale Ibleo sta tornando a ricoprire. I comuni Iblei potranno quindi presentare i loro contributi anche attraverso il libero consorzio. L'appuntamento da non mancare e il percorso di concertazione necessario all'elaborazione dell'importante documento di pianificazione territoriale. Dopo la presentazione in Valle del Fante del PTR Sicilia si è svolto il primo incontro con i settori ambiente, pianificazione e viabilità. Si tratta dello strumento che definirà le strategie e gli obiettivi per lo sviluppo del territorio regionale e noi come ente di aria vasta siamo chiamati ad attuare la scala territoriale partendo ovviamente da una proposta complessiva che si allinei alle politiche di coesione sociale dell'Unione Europea e ai principi dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, dichiara la Valenti. Nel corso del tavolo tecnico la commissaria ha fatto il punto sulla pianificazione dell'ente a partita dal piano territoriale provinciale approvato nel 2006, aggiornato alle attuali previsioni infrastrutturali compresi i tratti autostradali di collegamento con porte aeroporto e riserve naturali alle quali si aggiunge la futura aria marina protetta nella foce del fiume Erminio. La proposta strategica verrà definita in vista della scadenza della concertazione regionale fissata per la provincia di Ragusa il 19 ottobre.